Come vi trovate al secondo giorno di questo ritiro spagnolo? Devo dire bene, questa notte abbiamo testato anche i letti e sono comodi, quindi stiamo bene, si dorme bene, il clima è ottimale, quindi il ritiro sarà proficuo. Come trovi il gruppo? Ma si scherza molto, primo giorno abbiamo fatto un allenamento un po' simpatico dove ci sono state diverse risate, quindi il gruppo si consolida, ma era già bello solido prima.